Un posto al sole anticipazioni. Puntate giovedì 25 novembre 2021. Si presenta un giorno da non dimenticare per Adele Picardi che proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne scopre finalmente dentro di sé il coraggio di liberarsi di un peso che l'ha logorata per troppo tempo. Rossella sta ancora decidendo se restare a Napoli o partire per cogliere nuove opportunità lavorative. La ragazza non vuole separarsi dal suo amato. Per Silvia e Michele si presenta intanto il tanto temuto momento di affrontare la realtà con tutte le conseguenze del caso. I due decideranno di separarsi definitivamente? Per la Graziani sta diventando veramente difficile non rispondere a Giancarlo. Contrario considerati precedenti all'assunzione di Alberto Palladini allo studio del figlio, Renato agisce di testa sua e si appella a Patrizio. Trova in lui un appoggio non disinteressato. Alberto come reagirà?